Siamo in via della Maiella al rione Monterosa di Scampia e purtroppo devo dire che non c'è limite all'indecenza. Io non lo sapevo che sugli alberi ci fossero i topi. Normalmente sugli alberi ci sono gli uccellini ma vi assicuro che su questi alberi c'è una colonia di topi, di topolù. Eccola, 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 eccola. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, eccola, eccola, esagerata. Eccola, 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 Voi li vedete, li vedete? Voi li vedete da lì, parlate Guardate come sta camminando, ha chiamato pure, aprite Rione Monterosa, signore Rione Monterosa, via Via della Maiella numero 22 Siamo invasi dai topi sugli alberi Topi e zoccoli a volontà sugli alberi Se volete che io parli ho pure mia figlia a dire che ci stanno i zoccoli, che ci stanno Ma già, ben fatta così Da quanto tempo, signore? È un mese, è un mese Da quanto tempo avete questo problema? È più di un mese Ha iniziato a coltare gli alberi Perché noi prima eravamo, cioè, allora hanno iniziato a pulire gli alberi Come hanno pulito gli alberi sono usciti dopo Forse prima non ce ne rendevamo conto perché C'erano stessi però probabilmente si nascondevano Però no è prima in continuazione E questo è un mese di tutte e tutte le sei Comunque non usciamo più fuori al barco E dillo, pure tu perché c'è il rione che mi parla Perché c'è il rione che sta in base E non so Ma non so Ma non so Avete come cammina Avete? Sta proprio là sopra La vedete? Sì, sì, sì Guardate la roba in domenica Che è un nido là sopra Ecco, lo vedete? Quello è un nido Cosa volete dire all'istituzione? Cosa volete dire all'istituzione? Che non ci curano prove a noi Questo è un degrado di secondigliano Questo è un degrado di secondigliano Perché non è possibile che se mi arrivate Che i tuoi vengono a parlare Questo io voglio dire all'istituzione Signora, vengono anche in casa? Sì, a me sì Io li ho trovati su qua Qua vicino, qua vicino Qua, qua, qua Riscordi, qua, qua Perché mi trovi sopra gli alberi Scusa Io me la sono trovata in casa Perché sì È un bambino di 11 anni Se ne è accorto Io avevo mio nipote qua fuori E è venuto dentro E mi ha detto Zia c'è il topo fuori al balcone Vedete che degrado siamo Vedete che degrado siamo arrivati Con una fila Non parlo solo io Ma ho un rione intero Per io Riscitele Capite di grande che ne ha Riscitele Da grande che è tenita Ditelo Riscitele Perché di spazio che si risolvono problemi Non c'è il topo fuori al balcone Non c'è il topo fuori al balcone Non c'è il topo fuori al balcone E con mobili Un bel golo Che è capitato E le commissione E le commissione E le commissione Lei registravento E dopo la listo E il pedagogia non puoi mai fare sempre in mellano non lo so chi fa però di là e mi sono apparato più è un cibo il quadrato è subito tornato là in coppia e poi non puoi andare in un uomo non c'è ma quello che stanno là mamma mia bella che c'è là stanno sette o otto a uno posto e sta pigliando e sta pigliando dai e cadui qui chiedi che se non vota per noi eh ho tempo che passi di votazione FFM ma che devo vedere che è sto giù che è sto giù che è sto giù che è sto giù questo è piccolino eh piccolino no ma che sto giù dopo di fogna effettivamente lì ne ha rispettato ma si è giù è che è la casa della mamma questi non sono dopo di fogna non è che è un uomo è che è un uomo o dive che passa il votazione ahahahahah ma che è un uomo non so che è fatto tutto ma non è un uomo ma pure a moscere Davvero chiamate Anche le pinze Vede abbia ancora hey Ho paura Ecco il caffino che abbiamo fatto Ediskt сиг swallowed O thefuschi Non è il segretario? Non è il segretario, io sono diventata... Come si chiama? Ma l'attenzione?